inizio da questo video una nuova rubrica nella quale leggiamo insieme più o meno diciamo dai degli articoli che ho trovato interessanti che mi hanno segnalato che penso che siano utili e li commento prima io poi voi bontà vostra nei commenti al video vi invito a farlo allora parto con un articolo pubblicato da un quotidiano generalista ma in futuro leggeremo anche articoli specialistici e fonti scientifiche indifferentemente in italiano e in inglese e cercherò di mantenere un approccio ci provo anche se devo lavorarci ancora un po un approccio diciamo leggero e colloquiale in questo farò leva su una mia particolare ideologia cioè che quasi tutti gli articoli intendo quelli tecnici e scientifici anche quelli soprattutto quelli hanno tutti un certo grado di accessibilità anche per il dilettante per il dilettante informato e colto ovviamente e che questo da un accesso diretto alla conoscenza che può essere pure godibile gioioso oltre che fonte di consapevolezza del mondo intorno a noi di questo aspetto parlerò sicuramente in un video futuro dedicato penso che chiamerò questa rubrica slash podcast the newsroom resistenza tecnologica e tempi moderni o qualcosa del genere del newsroom è una serie tv che mi era tanto piaciuta tanti anni fa credo ormai lo deciderò diciamo anche un'altra cosa è la prima di alcune rubriche band slash podcast playlist tematiche che vorrei lanciare con dei contenuti meno preparati dei miei soliti video più di pancia qualcosa di più intimo e si spera anche più digeribili di conseguenza ma soprattutto dedicati all'oggi e anche alla resistenza tecnologica di cui ho parlato in passato ma che mi era un po' dimenticato invece è importante resistere tecnologicamente ma non solo tecnologicamente anche culturalmente quindi resistenza culturale e tecnologica mi saprete dire voi se la cosa sta riuscendo per far questo così come fanno tutti anch'io inizio con raccomandarmi a voi sapete già cosa vi sto per dire iscrivetevi mettetevi piace soprattutto commentate 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 inizio inizio adesso bene chiedo venia per ogni difetto e con il vostro aiuto vedrò di metterci rimedio nell'andare delle puntate allora dicevo ho finalmente avuto il tempo di leggere l'articolo di antonio pascale che si intitola si intitola si intitola ecco ecco tutte le bugie che l'ecologia bio e illogica mette in giro per spaventarci uscito il 31 agosto 2024 su il foglio che dire l'articolo sostiene tutte cose vere in sé con la sola piccola eccezione di quando dice che il bacillus torringensis uccide le colcinelle non è vero e se si vuole fare le pulce agli altri è bene stare attenti ai dettagli quando è possibile comunque il guaio del bacillum torringensis è che è fotolabile quindi è un casino usarlo in campo aperto ma non fa niente alle colcinelle ci piacciono le colcinelle ma insomma questo è un dettaglio irrilevante condivido molto di questo articolo quasi tutto ma sicuramente non il tono decisamente lagnoso e paradossalmente visto che accusa di questo gli ecologisti in giorni nuovamente allarmista vediamo un attimo di cosa ci parla pascale allora cito il primo passaggio gli ecologisti conservatori tendono a semplificare parecchie questioni mancano di uno sguardo di insieme quello che risulta necessario per valutare sia lo stato dell'arte sia gli strumenti per cambiare lo stato dell'arte sia stabilire realisticamente la fisiologica velocità delle della transizione è bello lanciare frasi a effetto per esempio le fonti fossili sono figlie del patriarcato come scrisse nel 2018 cara daggett introducendo il termine petro mascolinità più faticoso tuttavia è studiare come funziona il mondo attraverso quali meccanismi energetici grazie alle fonti fossili abbia costituito una società più benestante e libera bene questo ci dice pascale ma che dire se il femminismo delle parole qui cito una femminista storica barbara berti se il femminismo delle parole dicevo si inventa sciocchezze del tipo petro mascolinità questo non è allarmismo esercizio di pochiezza intellettuale di ideologismo ovviamente appellarsi al buonsenso a fronte di questo genere di comunicazione è poco meno e puerile secondo me ma poi vediamo pascale continua questo termine cioè petro mascolinità petro masculinity e nell'articolo dell'originale della daggett che vi lascio tra le fonti questo termine dice dice pascale anche se nello studio di cara daggett è usato per contestare giustamente i negazionisti climatici e non insomma quelli che si credono virilmente invincibili nel complesso della comunicazione è servito solo a sentirsi dalla parte giusta del mondo ma questo genere di narrativa appunto molto polarizzante non ci fa capire quali sono le caratteristiche chimiche fisiche delle fonti fossili e del petrolio che al momento nonostante i picchi annunciati a intervalli regolari a partire dagli anni 70 è purtroppo ancora una fonte importantissima e inquinante chiaro non solo altra tendenza degli ecologisti conservatori i quali hanno fatto buone scuole di comunicazione e aver fondato un immaginario bucolico insistendo sui bei tempi andati inquadrando le opere umane tutte in chiave catastrofista è tutto giusto bene ma a pascale si aspetta quindi che la comunicazione degli ecologisti conservatori come li chiama o del femminismo delle parole dicevo prima possa in qualche mondo parallelo senza nome cito di nuovo farci capire quali sono le caratteristiche chimiche fisiche delle fonti fossili e del petrolio ma di che cosa stiamo parlando sembra che pascale per quanto critico con questo mondo non abbia ben presente il taglio della comunicazione di questi movimenti basati sulle reazioni emotive non su un razionale approccio alle informazioni disponibili quando pascale parla di ecologisti conservatori ovviamente parla di organizzazione alla greenpeace che se tuttora porta avanti battaglie importanti come la lotta alla caccia delle balene per esempio io condivido tutto non riesce però a evitare che queste battaglie scivolino sotto la soglia dell'attenzione dell'infosfera e quindi a certe altre battaglie datate non può che rimanere abbracciata la nostra greenpeace con streno ardore proprio perché queste battaglie le consentono ancora di far parlare di sé e in ultima analisi di continuare ad esistere l'esempio ovvio è l'anacronistica battaglia contro l'energia nucleare sulla speranza di sopravvivenza per la nostra specie ma nemico pubblico numero uno degli ecologisti ma chiaramente se improvvisamente greenpeace dovesse ammettere quella della fissione l'unica strada per non veder morire il nostro mondo sarebbe lei a scomparire è ovvio no è una battaglia identitaria quanto sbagliata parlando sempre dei nostri amici pacifisti cromatici pascale scrive vediamo qualche esempio di imprecisione o falsità che caratterizza da decenni un certo pensiero ecologista concentriamoci sulla terra ha senso la vecchia e mai paga campagna di greenpeace che sostiene che le api vanno salvate e quindi bisogna finanziare coloro che si battano per la salvezza questa campagna pubblicitaria è un buon esempio del regime di semplificazione in alcuni casi di falsificazione a cui spesso siamo sottoposti quando leggiamo di cose agricole stupirsi di questo questa battaglia è un altro esempio dell'ingenuità un po stridola di questo articolo se per parlare al consumatore americano e perché a quel consumatore lì ci si rivolge sempre in queste campagne prima di tutto si è deciso infatti di parlare di bis anziché di pollinators in sex non è perché non sia chiara ogni testa pensante che le api mellifere sono tutt'altro che in via di estinzione mi pare ovvio il messaggio è che facciamo con le apette che hai sulla scatola dei cereali non le vuoi salvare è chiaro che se avessimo iniziato a dire a quel consumatore di voler salvare i maschi delle zanzare importanti impollinatori ma anche i simpatici bombi non ci sarebbe stata nessunissima reazione non interesserebbe a nessuno non avrebbe suscitato l'attenzione di nessuno e quindi bis api al mondo di fatto non ci sono mai state tante api melliferi come oggi sono un animale da allevamento la cina ne alleva una quantità enorme sarebbe come preoccuparsi dell'estinzione dei polli da carne ma intanto è un'ecatombe di insetti impollinatori alcuni così simbioticamente legati ad alcune piante e l'estinzione degli uni causerà inevitabilmente quella delle altre e questo potrebbe distruggere a cascata ecosistemi uno dietro l'altro magari non lo sappiamo quindi parliamo di api e però facciamo finanziare azioni a tutela di tutti gli insetti impollinatori che c'è di strano ma di nuovo leggiamo pascale per anni una certa narrazione ecologista portato avanti l'immagine del mondo come paradiso terrestre l'esempio più lancinante lancinante non so perché lancinante per gli ecologisti razionali lo si ritrova nel fondatore di slow food carlo petrini amato da tutti anche perché la gastronomia è un must nel dibattito pubblico vero è un must ne ho parlato in modo molto critico nella cucina italiana non esiste lascio il link che ha svolto un ruolo importante di opinionista sul repubblica non solo carlo petrini è un imprenditore diciamo metra pansè nel bel mezzo del dibattito sugli ogm nel 2010 petrini pubblico una specie di tavola della legge dal titolo 10 motivi per dire no agli ogm che poi non era una chiusura lo dice anche nell'articolo non era una totale chiusura vabbè vi leggo anche un altro passo su questo dell'articolo che dice 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 perché il dibattito in italia è stato portato avanti da associazioni il dibattito sugli ogm da associazioni ambientaliste che facevano ampio uso delle suddette suggestioni da intellettuali come mario capanna e pecorario scanio a questo proposito è da ricordare un vecchio sondaggio del 2003 a cura di food policy istituto della rutgers il sondaggio prevedeva una decina di domande alle quali bisognava rispondere barrando la casella vero o falso cosa di pezzè non particolarmente azzeccate nel sondaggio vabbè più della metà degli intervistati hanno preso un voto insufficiente perché era tipo un esame per aver risposto male a molti quesiti per esempio solo il 47 per cento degli intervistati ha capito che l'affermazione il pomodoro normale non contiene geni mentre quello verificato sì era falsa ciò vuol dire che buona parte di quei partecipanti al sondaggio pensano che le piante ogm siano velenose per il solo fatto di contenere geni un'altra parte degli intervistati pensava che se avesse mangiato un pomodoro modificato geneticamente quei geni passati nel frutto avrebbero modificato i suoi geni umani umani più o meno forse alcuni intellettuali che hanno prodotto le suddette imprecisione sarebbero rientrati in quel 47 per cento ok quindi vabbè come dice giustamente pascare carlo petrini ha fatto una battaglia ideologica anti o gm prodotto su ai che evidente a molti quasi a tutto non so chi non è evidente comunque bene quindi cosa ci stupiamo stiamo parlando del fatto che problemi enormi devono essere presentati a persone che appunto pensano che il pomodoro normale non contiene geni mentre quello modificato si qui banalmente non sanno cos'è un gene ma va anche considerato che in ballo ci sono interessi interessi sia biechi sia legittimi ma è vero una cosa che dice pascale c'è anche una bovina ignoranza da parte dei degli intellettuali di cui parla pascale che poi intellettuali stiamo parlando di politici nello specifico e di giornalisti insomma intellettuali lasciamo un po star lasciamo perdere un termine di qui magari riparleremo perché è un termine che sarebbe da restaurare devo dire che un po mi stupisce l'uso argomentativo nel sondaggio della dupia intanto perché ha usato quello del 2003 ce ne sono di più recenti ma non molto più recenti ma vi lascio il link alla pagina dell'archivio della dupia e poi perché campione degli intervistati erano americani e sudcoreani magari andava detto per amore di di cronaca diciamo per non accostarlo così strumentalmente un po a mario capanna a pecorare oscani ma anche questo è un argomento vecchio e se qualcuno pensa di saltar su e dice che gli ogn m non sono un tema vecchio ma attualissimo non è così bellini non è così è un tema in gran parte superato anche per la mutata sensibilità del legislatore europeo ed italico quello abituato a lanciarsi in camp battaglie metafisiche a difesa delle pratiche semi magiche ammetto poi diversi rimangiare anche addirittura anche normative volevano sancire la presenza della della biodinamica nella regge italiana delle cose diciamo perdere dicevo è un tema superato nell'epoca della crispr cas 9 la crispr cas 9 è la tecnologia che ci consente di fare copia in colla nel patrimonio genetico di un essere vivente e oggi con questa tecnologia siamo in grado di modificare direttamente il dna degli organismi senza che altrimenti sia possibile distinguere l'intervento da una mutazione casuale quelle naturali o anche quelle indotte come si faceva una volta e si fa anche ora con la chimica e con le radiazioni quindi che ce ne facciamo del dna del pesce abissale nelle fragole famoso pesce frankenstein se appunto di un'epoca della comunicazione che mi sembra lontana quanto il medioevo se possiamo fare meglio e più presto e soprattutto magari perché non senza lasciare traccia oltretutto di questa possibilità di nascondere l'intervento genetico non è nemmeno non c'è più nemmeno tanto bisogno per quanto facile sia perché il pubblico il legislatore hanno sensibilità diverse quando si usa l'espressione o gm piuttosto che quando gli si parla di editing genetico tramite appunto la cas9 sono fatti sostanziali un po ma più che altro veramente verbali e quindi politicamente rilevanti vi lascio un link in descrizione a un articolo di nature italy a riguardo di questo argomento magari più avanti ne faremo una lettura condivisa vediamo torniamo a noi però direi che un po mi stupisce il fatto che pascale non te non parli per niente del tema di gran moda il riscaldamento globale quindi lo faccio io abbiamo assistito nell'arco di decenni a un continuo gridare al vento da parte della comunità scientifica su questo proprio su questo e su una vasta gamma di problematiche connesse tipo la desertificazione della puglia non è che c'è da andare tanto lontano ma qualcuno di voi se n'è accorto sarete veramente in pochi era un rivolgersi a un auditorio di sordidi a nessuno interessava poi arriva greta e improvvisamente il riscaldamento globale diventa un problema enorme lo si vuole combattere in modo direi un po coffo e disordinato bene benissimo anzi ma ci sarebbe da mettere un po di ordine nelle strategie parliamone ma facciamo in modo sensato invece no un esempio le macchine elettriche di cui tanto si parla sono una soluzione un po sì un po no c'è chi dice di no ovviamente né per questo per quell'altro motivo fantasioso e c'è chi dice che di sì che è un gran fan per primo ovviamente quello che ne vende di più il buon Elon il grande nemico della società all'idrogeno ovviamente per conto mio è un dibattito intorno al nulla c'è un'unica vera soluzione ed è niente automobili private nelle città soprattutto che siano a gasolio elettriche il punto è niente automobili private nelle città taxi elettrici autocollettive magari a guida autonoma se arriveranno mai davvero le macchine a guida autonoma e qualcuno comincia a essere un po scettico ma certamente tramvie metropolitane e tanto 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 verde pensate che meraviglia firenze roma senza automobili ma chi ha il coraggio di dirlo nessuno perché tanto nessuno ascolta la cosa che mi lascia veramente perplesso in questo articolo e che è un po il motivo per cui ho iniziato da qui la mia rubrica e che ci si faccia tirare a un livello così basso del dibattito da concetti così banali e mal confezionati consideriamo che tutti questi sono messaggi ideati dagli uffici stampa e dai giornalisti colleghi di pascale per un pubblico con il livello di attenzione di un chihuahua bisogna risollevare lo standard come direbbe il james cameron di south park vi lascio un buffo link in descrizione tra le altre fonti ma lo possiamo fare solo attraverso il modo più lento e probabilmente doloroso tramite l'educazione educare al dibattito educare a una mentalità orientata alla soluzione dei problemi educare a cercare le informazioni quanto più possibile vicino alla fonte è l'unico modo per migliorare la comunicazione meno idioti dovremmo convincere meno dovremmo usare messaggi idioti mi pare evidente questo mi fa ripensare al bel libro di marco sant'ambrogio che ho recentemente finito di leggere e che parla molto di una scuola futura il titolo del libro è filosofia e storia viste da un filosofo parziale e pieno di pregiudizio un libro molto carino leggetelo vi lascio il link in descrizione e a venire da quella lettura mi viene da dire e aboliamolo questo benedetto latino questo dannato latino risaniamo le stimmate storiciste della nostra istruzione iniziamo a pensare a una scuola che sia vivace dinamica interessante tavolo è proprio necessario tediare a morte gli studenti fino a convincerli che imparare sia inutile e noioso è ovvio che poi si trasformeranno i cittadini incapaci di confrontarsi anche con i messaggi più banali una scuola originale come sono certo che siamo capaci di creare non scopiazzata dalla pessima scuola americana come qualcuno vorrebbe è l'unica soluzione per risollevare lo standard chiudo con una nota autobiografica e anche a partire da un riferimento che si trova nel titolo dell'articolo di pascale quando parla di ecologia bio illogica nell'articolo ne accenna appena ma è chiaro che si vuole riferire all'agricoltura biologica mi spingerei quasi a dire che anche questo tema sarà presto datato però perché vengono sempre meno finanziati i produttori che scelgono l'agricoltura biologica dall'europa e quindi presto molti decideranno io credo di mollarla questo non è però un male in sé per dire l'agricoltura integrata sta diventando dominante si stanno già sperimentando macchine diserbanti che fanno uso di laser e di micro dosaggio di erbicidi in un puntatore dotato di intelligenza artificiale che vede ogni singola erbaccia e la colpisce selettivamente a questo proposito vi lascio un divertente video della bella e brava Cleo Abram tra le fonti chi ne parla in italia nessuno chi si potrà permettere di acquistare quelle macchine in italia quasi nessuno dati i margini di profitto ridicoli dell'agricoltura un'agricoltura razionale può non essere biologiche purtroppo però l'agricoltura ha una brutta storia di miopismo e stupida ignoranza personalmente nella mia veste di imprenditore produco prodotti biologici da più di un decennio perché sostanzialmente perché sembrava fosse un po' una leva di marketing lo ammetto sapete una cosa non lo è nemmeno più forse non lo è mai stata ma non lo è più sicuramente da dopo il covid non importa nessuno del prodotto biologico viceversa c'è un buon pubblico per i vieni naturali e io li faccio da quasi vent'anni però con un certo successo perché perché sono uno che fa leva sull'irrazionalità delle persone no no anzi è perché c'è una domanda legata al bisogno di sentire di non essere completamente schiacciati dal complesso alimentare industriale questo e io questo bisogno lo condivido e quindi faccio vini naturali è un'illusione ovviamente alimentata da gente come petrini paradossalmente certo siamo tutti bisognosi di smuovere un po questa economia morente di questo paese contro la competizione di produttori internazionali che quindi ci attacchiamo un po in realtà e sto facendo un pesante outing vi assicuro che sono un grandissimo fan della chimica ma anche visto come veniva usata negli anni 80 quella stessa chimica terribile l'uso della monocultura e dei concimi come panacea ha sbianchito i terreni rendendoli poco più che degli zombie infatti se vi facessi vedere le foto di un girasole degli anni 80 e ve la faccio vedere perché ne ho uno attaccato sopra la porta di questa stanza e poi vi faceste una camminata per un campo di girasoli quelli attuali sempre qui intorno a casa mia in toscana rimarreste allebiti da quanto sono miserevoli oggi quei campi e l'uso della chimica e della monocultura guidato dalla miopia e dall'ignoranza continua anche oggi se vedete una foto del chianti e ne circolano ne ho visto diverse una vigna di un bel colore rosso che il pubblicitario di turno ha pensato fosse iconica e bellissima sappiate quell'erba è morta uccisa inutilmente solo per aumentare la resa del vigneto di pochi gravi è una pratica scellerata smettendo di fare agricoltura biologica e vinicoltura naturale cosa cambierebbe per me praticamente niente se non darmi la possibilità di intervenire nei non rarissimi ormai purtroppo casi in emergenza ma lasciamo stare è uno dei tanti mestieri che non rimpiangerò da aver smesso di fare quando lo sarò lasciato alle spalle voglio fare una chiusura una chiusura sull'articolo di pascale ma anche no non ho detto anche troppo riflettiamo un po insieme su questi argomenti nei commenti come dicevo all'inizio intanto vi saluto e vi invito a seguirmi per la prossima puntata un caro saluto ciao